Noi abbiamo il Milan nel cuore, noi vogliamo questa vittoria. Ragazzi buongiorno, Tringa presente, ragazzi non posso gridare che sono in giro stamattina. E niente, siamo tutti pronti alla battaglia, stasera sarà una partita veramente pesante perché andiamo a scontrarci contro il più recente passato. Il Milan gioca sicuramente con Gigio in porta. Conti, Chiair, Romagnoli, Teo, Ben Nasser, Kessi, Selema Kers, Rebic, Cialanoglu e Zlatan Ibrahimović davanti. Ragazzi cerchiamo di tenere lontane tutte le pressioni che abbiamo avuto addosso in questi giorni cerchiamo di pensare soltanto ai 90 minuti, 95 minuti. Allora se il Milan arriva da un filotto di partite importantissime, abbiamo vinto con tutte quelle che ci stanno davanti. Il Napoli è altrettanto vero che l'unica sconfitta che ha fatto, l'unica volta che si è fermato lo ha fatto con l'Atalanta che è la squadra secondo me più in forma del campionato. Quindi ragazzi oggi, stasera sarà veramente difficile ma dico veramente tanto complicato. Sto preparando le risposte alle vostre domande. Adesso fra un'oretta uscirà il video con tutte le risposte, un'oretta, un'oretta e mezza. Nel pomeriggio faremo una live e ne parleremo così per stemperare e tranquillizzare un po' tutti quanti per stare tranquilli aspettando la partita. Ci sentiamo nel pomeriggio. Ciao ragazzi, a dopo. Forza vecchio cuore rosso nero. Link in descrizione per l'obiettivo striscione. Ragazzi siamo fermi. Ieri sera ho avuto veramente un messaggio bellissimo da parte di un ragazzo che sta in Nigeria disposto a fare una cosa bellissima. Oggi pomeriggio ve lo racconto. Sono contento che ci siano persone veramente legate a questo progetto. Oggi pomeriggio vi racconto questa storia. Ci sentiamo più tardi. Grazie a tutti. A dopo. Sempre forza vecchio cuore rosso nero. A dopo.